Sindaco Massimo Cialente, da lei la proposta di dare a questi splendidi alpini la cittadinanza onoraria? Oggi inizia ufficialmente la tre giorni di adunata, una grande accoglienza, un grande colore da parte degli alpini, si rivede una città veramente viva. La proposta è portare a un Consiglio Comunale, sperando poi che l'ANA voglia darci l'onore di accettarla. Nasce da una considerazione duplice, l'ANA fu, ricordo bene quelle ore, furono gli alpini dell'ANA i primi ad arrivare ad aiutarci e furono gli ultimi ad andare via. Poi questa adunata, che è un atto di grande generosità perché hanno voluto dare la adunata a una città che si sapeva essere gravemente ferita ancora, quindi è stato un atto di solidarietà, generosità e anche, mi lascio dire, di fiducia per questa città. Io sto registrando questo in queste ore in modo sempre più travolgente, in particolare attraverso i social, che è la prima volta che la città rivive, dopo sei anni, un momento di gioia, di serenità, di entusiasmo collettivo. Io sono convinto che questa adunata, quando si ricostruirà la storia della nostra città anche da un punto di vista psicologico, si scoprirà che è stato uno spartiacque rispetto alla fase del terremoto, perché adesso gli aquilani stanno riscoprendo la capacità di essere una città viva, vitale.